Eccoci qua, è passata una settimana dall'ultima puntata e quindi ecco qua la puntata 5.6. In questa puntata impareremo solo due kanji perché ho molte cose da dire e quindi non ci sarebbe tempo per farne tre. Comunque nella prossima ne faremo tre e finiremo i kanji di primo livello. Dopodiché faremo un po' di verbi per continuare con la grammatica. Oppure se volete potremmo continuare con i kanji dei numeri, fatemi un po' sentire le vostre opinioni. Comunque cominciamo con la prima novità, è che ho registrato su iTunes Store il podcast con le lezioni per chi lo vuole seguire. In questo modo le lezioni sarebbero scaricate automaticamente sul vostro iPod o iPhone o anche un altro lettore di video che non sia iPod o iPhone. Se uno si ha voglia di rompersi le scatole, deve farlo registrare con iTunes. Ancora non è stato approvato da Apple perché loro devono fare la censura totale su tutto e quindi ancora non è stato approvato da Apple. Quindi magari non c'è nemmeno. Comunque siccome registrare come nome corso di giapponese di DanNanDin.it non mi sembrava tanto per lì, hanno scelto un nuovo nome. NihonDin che è l'unione tra Nihon, Giappone e DIN di DanNanDin. Quindi cambio della scheda del titolo. NihonDin, corso di giapponese, lezione 5.6 e kanji 16 e 17 di Basic Kanji Book. Che è un libro da cui tratto, prendo l'ordine dei kanji da questo libro. Non è obbligatorio averlo. Come ho detto nella scorsa lezione, questo libro costerebbe 12 euro. Però quando viene portato in Italia, tra IVA, Dogana, soprattutto la CIA e tutte le grane legali, costa 40 euro. Iniziamo con il primo che è DonNanDin. Si vede benissimo, un occhio è una donna. C'è la gamba, l'altra gamba, la testa, le braccia, è anche incinta. Quindi questa è una donna. Questa donna come si fa? Ah ecco, c'ha queste letture che sono Onna, che è la lettura nativa giapponese. E Gio, che è la lettura derivata dal cinese antico. Cinese antico perché nel cinese moderno si è NU. Ci sono anche delle altre letture, però queste sono quelle più diffuse. Ovviamente per tutti i kanji che dico, io dico soltanto le letture più diffuse. Non dico le letture più assurde e immaginabili. Perché se no ci sarebbe una lista infinita di studio con letture che non si userebbero mai incinta. Quindi per le letture più diffuse sono queste due. E ha tre tratti. Quindi cominciamo a fare il primo tratto, che si è cominciato all'alto, poi va giù, fa una specie di Q. Anche se Q dell'Iragana è una specie di... è come il simbolo di minore. Sì, sì, minore. Questo invece è più così. Bene. Poi si continua facendo l'altra gamba, che gira. Cioè fa una croce. E poi le braccia. Quindi, uno, due e tre. Vediamo un po' che utilizzo ci abbiamo. Ci abbiamo onna, quando si usa da solo. Che è anche facile da ricordare, no? Donna, onna. L'hanno quasi fatta apposta per essere quasi uguale al giapponese, no? Quindi come si dice donna? Si dice onna. Questo ve lo ricorderete per forza. Bene. Che onna si dice donna. Bene. Quindi, donna nel senso persona, cioè questo è femmina, va bene? Il primo è femmina. Questo è femmina. Mentre il secondo è donna. Quindi, onna no ito. Onna no ito. Vuol dire persona di donna, persona di sesso femminile. Bene. Però, nel bagni, che ne so, sui bagni c'è indicato questo kanji qua, il kanji onna. Bene. Poi, per esempio, kanojo. L'avete studiato, no? Nella grammatica che ho fatto in passato, per esempio. Kanojo wa nehonjin desu. Lei è giapponese. Ecco, i kanji sono questi. Kanojo. Konjo è la femmina. E quindi, quello che abbiamo fatto nella scorsa lezione è anche joshigakse, che è studentessa femmina. Jo, la femmina. Shi, che è il bambino, quindi bambina. Gakusei, studentessa. A proposito di gaku, andiamo a vedere gaku. Questo è studio. E si legge gaku, oppure gakk. Questo è zu piccolo. Quando c'è un altro kanji dopo. Gak, per suonare meglio, varrà da doppiare la parola che c'è dopo, quando suona meglio. E ha otto tratti. Da notare che, praticamente, il kanji è il bambino che studia sotto il tetto della scuola, no? Vedete? Per ricordarvelo. Questo è il tetto della scuola, con le antenne, eccetera. Oppure potremmo dire che il bambino, se è diplomato, gli hanno dato il cappello da diplomato e c'è tre pernacchi sopra. Se vi sembra troppo difficile questo kanji, beh, dovete anche tirare un sospiro di sollievo perché, in origine, il kanji originale era così. Ecco. Incidente. Aspettate. Il kanji originale era così, qualcosa di assurdo. Poi, negli anni 50, il governo giapponese ha adottato alcuni caratteri semplificati dalla Cina, che ha operato una grossa rivoluzione nei caratteri. Però, siccome loro li usano per tutto, hanno fatto una grossa semplificazione, a partire... Cioè, non è che l'hanno fatta a caso questa semplificazione, è perché quando il carattere di sinistra si scrive a mano, molti segni vengono semplificati e va a finire e si scrive come quello a destra. E allora loro hanno detto, perché noi bisogna starci a complicare la vita e scrivere ufficialmente come a sinistra, è complicato se poi nella vita reale lo scriviamo semplificato? E allora, ufficialmente hanno dichiarato che è così. Ora, il governo giapponese, che è di orientamento politico opposto rispetto alla Cina, ha adottato alcuni caratteri semplificati, non tutti. Per esempio, tra quelli che abbiamo imparato c'è Kuruma e Mon, la macchina e la porta, che i cinesi l'hanno semplificato, ma non i giapponesi. Vabbè, comunque questo non ci interessa, perché noi impariamo che in studio vuol dire questo, si dice così. Quindi cominciamo col primo pennacchio del cappello oppure la prima antenna sul tetto della scuola. Quindi, uno, due, tre. Si fanno tutte tre. Bene. Da notare che il tetto si fanno tutti dall'alto verso il basso. E quindi, questo, il secondo, si fa da sinistra verso destra. Poi si comincia a fare il tetto della scuola, quindi prima si fa il tratto a sinistra e poi con un solo tratto si fa la destra, si fa il fine del cappello. Poi si comincia a fare il bambino che sta sotto, quindi il capo, un tratto, il corpo, un altro tratto e le braccia. Vediamo un po' gli esempi. Gakse, che vuol dire studente. Vita di studio, quindi studente. Daigaku, grande studio, università. Gakko è la scuola. Tipo, per esempio, scuola media. Si mette il kanji di medio davanti a questo ed è scuola media, gakko. Bene. Oppure scuola elementare, si mette il kanji di piccolo davanti e quindi viene scuola elementare. O scuola superiore, si mette il kanji di alto, quindi high school, e quindi viene scuola superiore. Quindi gakko vuol dire scuola. E quindi, anche come abbiamo fatto l'esempio, è la terza volta consecutiva che uso questo esempio, joshigakse, che vuol dire studentessa femminile. Bene. La lezione di oggi è finita. La prossima lezione potrebbe essere la prossima settimana, ma non sono sicuro. Sicuramente non in diretta perché sono impegnato. Forse potrei metterla in deferita, ma dipende dai miei impegni. Da studiare la lista di parole che c'è già sul sito, come ho scritto qua, incredibile, ma vero. La lista di parole in teoria è disponibile sul sito, ma a causa di un exploit che è appena uscito, appena stato scoperto, c'è un bug di asp.net di Windows Server, che permette di avere accesso completo al server. E quindi devo fare un trasferimento del server, proprio ora che è Weekend. Quindi, la lista di parole c'è già su una copia di Dundundin, ma non sull'altra. Bene, perché Dundundin è una cosa un po' complicata. Si trova su due server contemporaneamente. Su uno c'è il backup, su uno non c'è il backup. A seconda di come siete fortunati, il DNS name server andrà a selezionare uno dei due server. Bene, su un server c'è la lista delle parole, sull'altro server non c'è la lista delle parole. Se vi capita il server dove non c'è la lista delle parole, aspettate 24 ore che la cache del DNS si azeri e così magari vi darà l'altro DNS, l'altro server. Tra l'altro è possibile che cambiando server, ora queste sono tutte parole tecniche, cambiando server cambia anche la, no senza è possibile, tra l'altro è matematico e cambiando server cambia anche la machine key di encritazione delle password. Ovvero tutte le password che sono salvate su Dundundin non sono salvate in modo irrecuperabile, questo per la vostra sicurezza delle password. Quindi cambiando server cambia la chiave di encritazione delle password e quindi le password non saranno recuperabili. Quindi se andate sul nuovo server non sarete in grado di aprire, di entrare nel vostro account. Quindi ora troverò il modo di recuperare le password anche se sarà un po' difficile. Va bene, quindi se vi è piaciuta questa puntata votate con masso dei voti, sì, commentate, sì mi è piaciuto, ti amo, sottoscrivete il canale e basta ci vediamo la prossima settimana oppure tra due settimane. Grazie di avermi seguito.